Ciao a tutti e benvenuti a questo video di Magistro Lotus. Oggi analizzeremo i vari formati e cercheremo di capire per quali esigenze sono adatti, cioè abbinare il formato al player adatto in maniera che così voi possiate ottenere il massimo divertimento in base appunto a ciò che volete ottenere. Questo ovviamente per quanto riguarda l'early 2024, lo faccio prima dell'uscita di alcuni set in particolare che vedremo che saranno molto importanti in particolare per un formato, ma li discuteremo nel dettaglio dopo. Prima di cominciare però, vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale, soprattutto ad abbonarvi, che è la maniera più diretta per sostenerci e aiutare a mandare avanti tutto. E inoltre vi ricordo il nostro sponsor, Fantasiastore.it, uno dei negozi più forniti in Italia, soprattutto uno dei più veloci in ospedire in Italia, spedizioni di 24-48 ore, soprattutto molto 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 forniti. Tantissimi prodotti sigillati e stanno iniziando ad avere un bel po' di carte singole, quindi dai, approfittatene, perché appunto il codice sconto è su 5, 5% di sconto sui prodotti non già scontati. Al check-out direttamente, quindi niente giri strani. Allora, cominciamo con il primo formato, Standard. Standard è un formato che praticamente ha subito una mini rivoluzione l'anno scorso, cioè che ne hanno allungato la rotazione. Nel senso, prima ruotava molto prima, adesso ruota nettamente di meno e quindi una carta rimane in standard per molto 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 più tempo. Lo notiamo tantissimo, già adesso, perché è stato un effetto immediato, con carte come Sheldred. Allora, questo ha creato delle problematiche dal punto di vista che magari uno dice, ah, mannaggia, sta carta me la devo trovare contro tantissimo tempo, sarà un problema. Però, mi ricordo ancora le grandissime lamentazioni su Sheldred, ormai è una carta molto forte, il drop a 4 di riferimento del formato, ma ci si è adattati tantissimo a gestirla. E quindi, già questo mostra come effettivamente il power level delle carte forti viene bilanciato, perché ne escono altre altrettanto forti in contesto, soprattutto come Standard, che non ha magari delle cose altamente rotte. Il tutto condito dal fatto che la Wizard le guarda più da vicino questo formato e va a bannare immediatamente qualcosa che magari è troppo forte o troppo presente. Al momento attuale, nel quale appunto sto registrando, quindi early 2024, è molto bilanciato. Tutti gli archetipi sono rappresentati, agro, per esempio, Bunt Poison, Monorosso, Boros Convok, che è il migliore, tendenzialmente per quanto riguarda lo share di meta, risultati, magari anche matchup. E midrange, finissimo, di midrange, colgari midrange, quanti volete. E controlli anche, c'è appunto Zorus Control, Dimir Control, c'è anche qualche mazzo combo, perché c'è per esempio, appunto, questo viene chiamato Temur Control, ma è un mazzo in realtà control combo. Cioè, il tuo obiettivo è controllare il tavolo fino a un certo punto e poi fare una combo che non è proprio una combo senza una classica cosa carta più carta vinco. Ecco, è semplicemente che fa tantissimo mana e ti fa una specie di palla di fuoco che ti fa anche 30-40 danni. E questa palla di fuoco, cos'è? È una... dove la trovo? È sparita. Eccola qua. No? L'avevo vista, mannaggia. Eccola qua. World Souls Rage, che è X e Gruul, quindi verde-rosso, fa X danni a un qualsiasi target e poi puoi rianimare fino a X-Terre dal cimitero o metterle in gioco dalla mano e le metti tappate. Come fa tantissimo mana, lo fa con le patch da poveri. Adesso, per esempio, non voglio fare una deck text, no? Cioè, parlo del formato in generale. Però è più un combo... è un... anzi, è un combo control, è proprio definito correttamente. E quindi questo fa sì che il formato, appunto, sia estremamente equilibrato, perché appunto c'è tutto quanto, i matchup non sono troppo decisi e l'aumento di pool, come avevamo anche predetto, dicendo che appunto è una cosa positiva, ha fatto sì che lo standard tornasse interessante. Adesso, nonostante tutto, se andiamo a vedere l'ultimo report, chiamolo così, della Wizard per quanto riguarda questo formato, ne sta parlando molto bene. Dice che i numeri sono tornati, gli eventi sono tornati e anche i player sono tornati. Poi, per carità, ragazzi, lo capisco che la percezione possa non essere quella. Uno, magari, è giocato anche molto di più su Arena rispetto anche ad altre parti in Real, però vi ha ragioni. Su Arena, dici, lo gioco quanto volte voglio, sono tranquillo. E soprattutto in Real ci sta. Anche io, nella mia realtà, la percezione è che lo standard sia morto. Certo, se consideriamo magari la community di Torino è morto. Però, se guardiamo la community globale e consideriamo anche l'online, considerando sia MTGO che MTG Arena, probabilmente il formato è giocato. E la Wizard guarda sul globale e dice, ok, questo formato finalmente ha di nuovo un interesse, stiamo andando sulla strada giusta. Poi ripeto, ragazzi, quindi non fatevi solo influenzare dalla questione Real. Questo è un formato adatto a chi? È un formato adatto tendenzialmente a gente nuova. E anche per questo ho voluto rivitalizzarlo. Perché chi vuole entrare nel gioco è nuovo o di rientro, ma vuole fare un experience di Magic moderno. Nel senso, con tutte le tipologie di carte attuali, questo è il formato più adatto. Cosa intendo con questo? Perché ci sono altri formati, anche adattissimi per cominciare, che vedremo anche dopo, perché non te lo vediamo praticamente tutti i principali. Ma non hai tutto il Magic, magari mancano i Planeswalker, mancano alcune tipologie di carte perché la rarità te lo impedisce. Mancano, appunto, le creature moderne perché magari stai giocando una roba solo con le carte vecchie. Quindi, insomma, se vuoi giocare a un formato 60 carte, ma senza starti a perdere perché devi recuperarti troppi episodi passati, cioè troppi set passati, troppe carte passate, troppe cose, questo è adatto. Perché comunque il pool è limitato e poi a un certo punto ruoterà e ciao. Come tutti i formati, ovviamente, questa è una cosa che mi intercato di dire all'inizio, ma lo dirò adesso, considerate molto cosa si gioca nella vostra community. La regola d'oro per qualsiasi formato vi citerò, infatti non la ripeterò poi per ogni formato, è che deve esserci da community presente da voi. Sono inutile perché siete un oasi in mezzo al deserto da soli con il vostro mazzo che ve lo mescolate a casa da soli e finisce lì. Quindi, se da voi si gioca tanto standard, ha senso montare standard, anche se magari non vi piace ma volete giocare a real con gli altri. È stessa cosa per altri formati. Detto questo, nota conclusiva su questo formato, quale può essere la sua problematica? Allora, i costi a sostenere continuamente, perché comunque le carte costicchiano soprattutto alcune, ad esempio Sheldred, e ci saranno sempre delle carte così che saranno costosette in questo formato, e la non completa libertà. Nel senso, se voi volete giocare un mazzo ad elfi, un mazzo tritoni, un mazzo botti, insomma, una tipologia specifica di mazzo perché vi attira quell'aspetto specifico di Magic, non potete magari farlo perché non è presente al momento questo è J Standard. Secondo formato, invece, che ovviamente parliamo è Modern. Modern è probabilmente il formato costruito a 60 carte con più successo. Nel senso che è quel più giocato al mondo, ha tantissimi player attivi, ed è al momento quello perfetto dalle persone. Lo notiamo anche nei video, comunque, Modern, vediamo che vi piace, piacciono tantissime persone, siete molto interessati e tutto quanto. Ci sta, perché è un formato che non ruotando appunto permette di sopperire a quel problema che dicevo prima dello Standard, cioè il fatto che non tutte le strategie possono essere bene o male rappresentate. Scopriremo che, per carità, però, questa cosa è in parte vera, ma va comunque un po' smorzata. Non è poi da giocare la Tribe che volete in Modern, semplicemente perché è presente. Sliver è presente, Elves sono presenti, i Goblin pure, ma sono tutti mazzi di super ultra, classi di serie B, C, D o anche de... de meno. Non significa solo perché hanno delle carte forti, non so, siano viabili. Anzi, no, siano forti, viabili magari sì, perché in Modern comunque il power level delle carte è talmente alto, oramai per quasi tutti gli archetipi che tutti i decks sono comunque viabili. Per dire, un mazzo Tritoni, se guardate a sé, senza considerare il metagame, è tutte carte fortissime, dici, miglia, questo mazzo come fa a perdere? Un aggro con i controcoglioni, poi giochi il formato effettivo e capisci, ah, ecco perché può perdere. E non è un tier 1. Questo vale per praticamente quasi qualsiasi Tribe, oramai. Però, comunque, è un formato che ti consente di farlo. E già questo è un'ottima cosa. Allora, il Modern in realtà sta soffrendo un po' un problema, che noto che tante persone stanno appunto sentendo. Allora, il Modern una volta era molto di più il formato del tuo pet deck. Cioè, tu portavi il tuo mazzo preferito, che poteva essere nel mio caso magari Jand, poteva essere in altri casi altre tipologie di deck, ed eri molto, ma molto, ma molto premiato per il fatto di conoscere bene il mazzo. Sapere bene cosa sai dare, cosa sai dare, come settarlo. Quindi, anche se giochi avvi un mazzo che era un tier 2 o un tier 3, avvi ottime possibilità di vincere. Perché l'esperienza era molto, molto, molto premiata. Adesso l'esperienza è altrettanto premiata, quindi questa cosa è bella che sia rimasta. Però, devi comunque avere un mazzo che sia, ovviamente si parla di torneo più competitivo, comunque semi-competitivo, ma anche se vuole semplicemente vincere di più in fumetteria, ti obbliga un bel po' di più a giocare i mazzi che siano almeno tier 2. Come minimo, come minimo. Perché, da quando l'ho introdotto in Modern Horizon, il power level di molti mazzi che le hanno ricevuto carte belle, forti, le migliori di quei set, è aumentato tanto, e quelle carte appunto sono tanto, tanto forti. Questo fa sì che, se tu non giochi questi mazzi, già sei un po' tagliato fuori, non senti l'esperienza. Però, se giochi quei mazzi, l'esperienza comunque rimane un fattore fondamentale. Però, è comunque un problema, perché ti taglia via tanti pet deck. L'altra problematica è che tagliando via i mazzi, cioè che non sono più adatti, per esempio, farvi un esempio stupido, Jand è il primo che viene in mente, perché è un caso personale, potete farlo con tantissimi altri mazzi, solo per farvi capire il concetto. Era forte fino ad X anni fa, ok? Tu lo upgradavi un po' con le carte che uscivano ed eri ancora dentro, eri in game, eri ancora a posto. E, ripeto, era fattibile per tanti mazzi. Adesso, invece, molti mazzi, non avendo ricevuto upgrade da modo Horizon, che siano davvero decenti, o robe del genere, sono rimasti tagliati fuori. Quindi, tu sei obbligato a comprare altri mazzi completamente rivoluzionati, o, appunto, a rivoluzionare completamente il tuo deck, perché, nonostante sia rimasto in game, sia rimasto forte, è completamente cambiato. E, perché devi comprare queste carte nuove? e quindi questa è una problematica, perché devi investire tanti soldi, le carte escono a go-go, e tu non riesci a starci dietro. Quindi, il tuo deck è buono per, così com'è, per, sei mesi, giù di lì, mentre prima il mazzo era buono per anni. Ripeto, uno può dire, eh, Isma, però, nei mesi il meta cambiava, certo, ma se il meta cambiava, dove solo cambiare la sideboard. Un conto è cambiare le tech di side, cambiare un po' la main, con delle carte che hai, fai degli swap così interni, per migliorare il tuo deck in base al meta. Un conto è rivoluzionario tanto, e questo è davvero cambiato da molto, molto, molto negli anni, per la di Modalzone 2. Modalzone 1, e Modalzone 2, e anche Signore dei Anelli, che comunque è stato praticamente un modo Horizon 2 e mezzo, anche perché effettivamente aveva preso il posto del modo Horizon. Questo formato è adatto a chi, oramai, secondo me è più adatto a chi magari ha una mente più competitiva, e quindi vuole giocare un formato 60 carte, in maniera, appunto, più, più competitiva, più attecciosa, più così, perché, uno sono formati, ci sono tornei più belli, di moderni, in media, più grossi, quindi ti permette magari di farmare anche in real dei tornei belli, che magari altri formati non possono permettersi, e comunque un formato che, come ho detto prima, premia tanto l'esperienza, e quindi ti puoi sentire premiato, di più rispetto magari altri formati per questa cosa qua dell'esperienza, o invece giochi dei mazzi con determinate caratteristiche. altra cosa side note che vi posso dire su questo formato è che in questo momento, quindi quando sto registrando, quindi nuovo, early 2024, bisogna attendere. Non fate l'errore se vi innamorate in questo momento del modern o di qualche deck a comprarlo ora, perché a giugno esce in modo Horizon 3 e probabilmente il meta verrà completamente rivoluzionato nuovamente. questo fa sì che i mazzi attuali siano praticamente non rilevanti, perché non sappiamo cosa succede, anzi cosa accadrà, ma sicuramente sarà appunto un grande botto, un grande sconquassamento e quindi usate i vostri soldi in maniera wise, in maniera intelligente, in maniera saggia e non comprate un deck adesso di modern. Un conto, dovete fare un grande torneo, sapete, siete preparati, state andando a vincere, ma di nuovo questa è una cosa più per i competitivi, allora un conto, ma perché lì stai seguendo diciamo una routine competitiva, non stai considerando investo i soldi nel mazzo e me lo tengo, eccetera. Gran parte della gente che ci guarda, praticamente penso il 95%, ma anche questo vale anche poi in generale nella community magic in toto, gioca il torneo semi-competitivo, cioè vuole vincere intorno di fumetteria, il torneo bello nel negozio, però vale la pena spendere centinaia di euro e passa per vincere un tornetto bello per quanto bello, grande quella di fumetteria, secondo me no, e quindi di nuovo attendete, secondo me è la maniera più adatta per approcciarsi in questo momento al formato e in generale essere molto cauti su questo formato, cioè investire in maniera oculata e non comprare seguendo l'hype, perché secondo, se no rimanete davvero molto scottati rispetto a una volta, per tutte queste uscite super potenti. Poi, Pioneer, il cugino piccolo del modern, è un formato che è più adatto a chi vuole una via di mezzo tra standard e modern, quindi power level un po' più alto magari rispetto allo standard, perché ci sono le carte meno male che sono forti lì, più anche però altre, anche questo non rotating ma molto più piccolo rispetto al modern, con dei ban specifici per impedire di avere le mana base perfette, chiamiamole così, del modern. Questo è un formato al momento che è un po' né carne né pesce, nel senso che l'attenzione su questo formato praticamente è solo quando è nella season competitiva, questo vale un po' per tutti quanti, per carità, ma lo noto proprio tanto e si vede anche nei prezzi delle carte, che l'interesse non è grandissimo in questo formato, un po' lo capisco, perché essendo che è un po' una via di mezzo, non riesce a soddisfare appena né uno né l'altro, né gli altri e quindi quindi niente, sostanzialmente vivendo in questo limbo è un po' una situazione particolare. A chi si adatta appunto, chi cerca questo tipo di esperienza, quindi magari non vuole approcciarsi al modern per tutti i problemi che ho citato prima, anche il costo, perché modern adesso è intanto abbastanza costoso e anche un po' in parte a chi non vuole recuperarsi come la cosa dello standard, troppi episodi passati, perché comunque qua il pool è nettamente più ristretto e i mazzi sono tendenzialmente comunque bicolore, se hanno più colori sono cose strane che in maniera fa sì che comunque uno riesca a comprendere da subito quello che accade e a agire di conseguenza e quindi a imparare a giocare nel formato. A me personalmente è quello che al momento mi piace di meno, non c'è anche quando era appena uscito in generale poi non non ho mai attirato questa cosa personale non c'è un'influenza in formato questo è il mio parlare personale l'ultimo pezzo cioè che non mi piacesse però quella è una cosa di fatto personale vale quello che vale altre cose formato che sono negative è che si cerca sempre di trovare la cosa più rotta e spesso quando esce una cosa rotta non avendo i mezzi per via del mana per via del ban della mana best perfetta quindi il fatto di poter avere più risposte da poter attingere da più colori e per altri fattori perché mancano delle carte proprio che hanno il power level adatto appena uno fa uscire una cosa con un power level un po' forte un po' rotta tac diventa subito da tier 1 esempio la ghost vampire si è scoperto che Xorin praticamente in questo formato fa una specie di show entel con un vampiro gigante ha trovato una cosa rotta la ficchiamo lì e ora al momento non è che ci sono chissà quante cose belle per poter gestire questo specifico questa specifica giocata e quindi tier 1 fenici butta giù le fenici a go go e ha delle carte rotte come appunto la treasure cruise e c'è quindi un ancestral che riesce a fare anche velocemente nonostante manchino le fecce e i millini però comunque riesce a fare l'ancestra super veloci e così via e quindi è un po' un formato che senti davvero il fatto boh stiamo giocando le cose più rotte perché questo c'è e il resto si attacca un po' e non si riesce a renderlo viabile perché gli manca sempre quel pezzo in più per essere appunto abbastanza forte da reggere a questi mazzi niente questo è un po' e niente che passiamo a pauper pauper è un formato che soprattutto l'ultimo periodo ha aumentato tantissimo lo abbiamo visto anche con i pauper geddon o vari tornei grossi di pauper che finalmente vengono anche giocati in real e 600 700 player e pass l'ultimo pauper geddon cioè raga numeri da gp e attenzione con numeri cappati perché il pauper geddon è un evento che ci puoi andare praticamente con un ticket che però sono limitati quindi se se togliessero il limite probabilmente i player sarebbero secondo me già adesso mille volendo ogni ogni pauper geddon ovviamente c'è questa cosa del cap non perché non gli piace fare i soldi a chi gestisce o per far sì che il formato sia più bello perché penso sia un problema logistico poi se qualcuno è esperto e sa ci commenti pure sotto la motivazione però penso che andando a logica facendo 2 più 2 sia quello perché si riesce ad avere top persone anche perché ragazzi c'è una struttura che tenga in sicurezza 700 persone a giocare più altre 100 a girare a caso perché c'è anche gente che gira a caso eccetera è tantissimo quindi figurati che con un cappellimitato cioè che ci servono tre stadi e quindi sarà sicuramente quello ma di nuovo se c'è qualcuno che sa di più dicono nei commenti il formato si va solo sulle comuni quindi carte stampate con rarità common ma questo penso fosse ovvio ma ve lo dico lo stesso allora in questo momento il pauper è in ottimo stato ma lo è da un po' perché da quando hanno introdotto il pauper panel viene molto di più considerato e seguito il pauper panel praticamente sono degli esperti di pauper content creator giocatori forti pro insomma un mix che si interfaccia con la wizard e dopo la previa autorizzazione della wizard fanno praticamente le decisioni sui bonus bundle formato devo dire che hanno sempre fatto fino adesso un ottimo lavoro ottime considerazioni con le quali mi sono sempre trovato d'accordo non lo dico perché lo penso davvero uno lo conosciamo anche in real per carità e aizen anche perché di Torino di queste parti dove viviamo noi però non direi che senza ragazzi siamo davvero convinti facendo un ottimo lavoro stiamo anche giocando tanto pauper noi del canale andiamo spesso a giocare venerdì sera pauper e allora positività aspetti positivi per cosa è adatto questo formato perché per chi insomma è la cosa che dicevamo prima questo è un formato adatto tutti perché comunque con il centello o giù di lì ti riesci a montare un mazzo attenzione in realtà i pezzi sono aumentati un bel po' quindi è facile che trovate i mazzi che sono comunque 160 euro 200 euro perché comunque recuperare il 4x di determinate carte è molto complicato anzi alcune sono praticamente introvabili prismatic strand è introvabile per farvi un esempio di una carta molto giocata in pauper che è difficilissimo trovare il 4x bisogna magari andare a cercare l'uno per in giro eccetera è davvero un casino un casino dust to dust snap out ha saluto ricevuto la ristampa ma comunque non è facilissimo trovarlo insomma chi più ne ha più ne metta ma anche semplicemente alcune carte di lord of the ring come anche l'orien reveal di tutti i vari ciclini che cercano le terre base non è facile trovare 4x così proprio schioccando le dita anche su internet comunque spesso venditori che hanno l'uno per vario quindi di nuovo non è facile poi si dice car trader 0 però di nuovo carteria 0 è figo ma aumenta tantissimo i tempi poi ha un po' di problemi che abbiamo già esposto mkm bisogna trovare quello col 4x però comunque è più costoso magari perché devi fare più spedizioni insomma è un casino è un casino però non lo stanno in tutti i casino e quindi il prezzo lievita per questa cosa 200 euro e mazzo ce l'abbiamo fatto attenzione poi non è un 200 euro come lo standard il mazzo vi rimane qua effettivamente se notate lo storico delle carte al momento è il formato più pet deck friendly perché nonostante il mazzo possa cambiare tanto lo potete cambiare o upgradeare con poco esempio stupido lo faccio con me stesso io ho montato borosynthetizer come primo deck comprando il pool di borosynthetizer cioè in realtà avevo giocato un po' per tantissimo tempo fa e giocavo finiti ma questo parlo del 2014 però vabbè parlo del tempi moderni non avevo praticamente più niente ho montato borosynthetizer borosynthetizer non mi piaceva tanto nel meta perché beccavo sempre i serpentoni di mir terror e quindi ho detto oggi di giocare orzo blade che stava in nome poi è successo mi sta facendo fare dei bei risultati a fare i due mazzi ci ho messo niente perché tanto il pool è quello cambia devo prendere poi le terre per cambiare i colori che vuol dire prendere le terre doppie che il popper costano niente perché sono le terre basiche ragazzi letteralmente più delle terre tappate che danno due colori che costano niente e il mazzo è finito perché poi prendevi delle carte nere che mi mancavano a fine e poi il pool di carte bene o male forti adatte è molto 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 simile nei vari deck anche se vengono usate in maniera diversa e quindi vi prendete counter spell e siete a posto per i mazzi blu vi prendete bold e siete a posto per i mazzi rossi vi prendete le galvaniche e siete a posto per i mazzi rossi con gli artefatti cioè insomma avete capito il gioco e questo è bene diciamo per la spesa perché appunto siete tranquilli punto vista metagame come ho detto prima è molto curato quindi è bilanciato trovate tutto aggro combo control mid range c'è tutto quindi anche quello siamo molto contenti e soprattutto tante strategie variegate e molto differenti fra loro e tutte con non troppa edge una rispetto all'altra sì ci sono i tier 1 ci sono i mazzi più forti quello che volete ma quando ti giochi contro un tier 1 di pauper e tu sei giocando un tier 3 non senti quella differenza incredibile che magari ci può essere un tier 1 di modern attuale e un tier 3 c'è a differenza senti che lui sta facendo delle cose un po' più forti delle tue un po' più buone un po' più ottimizzate diciamo ma tu non non ti senti automaticamente uno sconfitto fammi un esempio stupido un mazzo torture existence creato l'ho beccato l'ultimo torneo di pauper adesso è considerato un tier 3 4 perché ah ti fanno la relic e muori quello qua si è capito però non è che main deck tutti hanno anticimitero ovunque main deck hanno magari che ne so il bojuqabogo o una o due carte anticimitero per tutto il G1 tu è già fortissimo con quell'altro magari non puoi interagire bene perché non c'è stai giocando magari contro azzaro saffiti tu riesci a entrare in controllo con un ciclando le tue creature continuamente con la tortura exit che è una carta che ti fa scartare le creature riprenderle dal cimitero quella che vuoi e cazzarola magari riesci ad entrare un lock che lo distruggi e l'altro non ha magari appunto non ha un forte main deck per interagire con te adesso ho fatto un esempio stupido giusto per farvi capire e questo è anche molto molto bello gli aspetti negativi sono che il power level delle carte è bassino e alcune cose sono impossibili perché non possono essere stampate a comune per esempio gli sweeper nel formato ci sono ma sono sweeper un po' particolari sono due danni a tutto meno 2 meno 2 cioè non sono tipo spacca tutte le creature le carte non sono polivalenti spesso sono creature che hanno un etb o addirittura no effect una volta entrate e basta per esempio le carte di affinity di polmira enforcer è un 4-4 che si sconta basta una volta che è dentro un 4-4 vanilla le carte borosynthetate sono delle creature che volano che entrano e fanno rimbalzarti delle cose in mano ma quello fanno una volta che sono entrate basta non fa nient'altro sono dei 2x che volano e quindi questo che era delle partite che potrebbero essere agli occhi del tenendo in mente ovviamente il fatto che del magic moderno un po' noiose un po' un po' stantie e soprattutto un po' polarizzate perché alcune strategie molto di più che in altri formati annichiliscono altre e tu anche post board non puoi farci niente esempio il turbo fog che è un mazzo abbastanza presente in questo formato ad alcuni deck specifici li annichilisce a meno come metti delle carte davvero super ultra specifiche di side che non ha senso farlo non a meno che tu non sai che beccare i 10 turbo fog non ha senso perché tu non vincerai mai praticamente o l'altro muore sul tavolo ma lega 2 non c'è modo perché di nuovo tu non hai carte polivalenti perché una carta polivalente in media deve essere almeno rara o uncommon per fare un esempio stupido graveyard trespasser è stata una carta che è venuta in mente rara non è un caso un 3-3 che entra quando entra esili una carta del cimitero se è una creature guadagni punti vita e l'altro ne perde uno award quindi è difficile togliere eccetera eccetera quella è una carta che è polivalente perché è buona contro aggro perché blocca bene è difficile da togliere e ti dà vite è forte contro i mazzi che si basano il cimitero perché gli togli i pezzi dal cimitero è forte contro controllo perché è difficile da togliere quindi magari ti impongo il fatto di farti un 2x1 con la spot removal o di sfrattare per forza per scambiare uno per uno e quindi capite che sì non è il massimo in nessuno dei matchup ho detto ma è polivalente mentre qua le carte sono buone in uno e magari in altri 3-4 scenari fanno schifo e quindi quello è un problema questo formato cosa che è adatto a tutti come ho detto prima è perché non è difficile da prendere le carte fanno niente nel senso che fa ridere nel senso adesso mi spiego meglio come ho detto prima sono carte spesso con un monoeffetto semplice da gestire e da vedere quindi una volta che voi avete delle carte sul borde potete tranquillamente riuscire a ricostruire e decidere una strategia magari vincente per esempio già solo il fatto che appunto le terre non fanno niente potete vedere praticamente potete solo contare quanto mana l'altro per capire cosa possa fare ma poi non dovete considerare quella terra può animarsi quella terra può fare l'effetto che mette delle cose perché da più mana da meno mana no da mana fine ce n'è qualcuno che fa effetto ma poche in realtà comunque su questo formato poco a dire sono cose positive io lo consiglio tanto soprattutto in questo periodo perché appunto in questo periodo turbolento detto prima la mancanza dei pet deck può essere un buon modo per chi vuole dedicare il giusto tempo al gioco rimanere comunque dentro il gioco ma non essere sempre lì oh mio dio deve sempre starci dietro quindi questo è quello che vuole dirci soprattutto la community è bella grande ma come abbiamo visto poi ultimo formato ovviamente di cui parleremo è commander prima di parlarne sì lo so ho schippato a legacy vintage ma legacy vintage non ha senso parlarne nel senso che a meno che non abbiate una community che gioca a proxy friendly tra l'altro noi non siamo a favore delle proxy quindi non me la sento di dire che è una cosa giusta però a casa vostra sul vostro kitchen table fate come volete tra l'altro la wizard stessa dice che a casa tua fa quello che diavolo te pare però io parlo di community normale cioè community da negozio lì è un po' diverso perché la wizardmente non vuole sono formati che senza le proxy non si riesce in real se si riesce in real perché sia già una collezione vecchia o si ha tantissimi soldi e quindi di nuovo è una cosa super complicata è l'unico modo per giocare vintage cioè legacy senza vendersi i reni e giocare su mtgo perché lì le carte costano di meno perché non ce l'ha riserva di list e boh quella è l'idea basta però c'è poco da dire ragazzi purtroppo lo dico un po' mal in cuore perché c'è due o tre deck di legacy che mi hanno attizzato e che ho giochicchiato su moxfield provando le mani mi piacciono tanto maverick culla di ghia control questi mazzi anche elfi mi sono piaciuti tanto però tanto cioè proxarea non ci voglia non mi sento non me la sento ma poi gioca con le proxime da fastidio e magic online non mi interessa e quindi no e quindi poi gioco praticamente in real quindi di nuovo appunto no tornando a commander commander è il formato più friendly nel senso che potete tranquillamente andare con il mazzi a caso i mazzi precostruiti e trovare divertimento l'unico problema del commander è che bisogna bilanciare il power level quindi bisogna riuscire ad avere una community o comunque un tavolo in cui tutti abbiano il mazzo sullo stesso livello questo è reso anche più facile perché spesso prima della partita si applica la regola zero o meno viene chiamata così della community e ci si mette d'accordo su quello che si vuole ottenere dalla partita ok facciamo una partita coltello fra i denti ci ammazziamo velocemente ok giochiamo competitive di h ci tiriamo le bombe carte fortissime mazzi da 4000 euro 5000 va bene e ci sta e siamo tutti d'accordo vogliamo fare le cose casual partita lunga da 3 ore con carte a caso e birra allora giochiamo per costruiti mazzi bruttini non ottimizzati con carte a 10 mana robe così questa è una cosa importante del formato in realtà commander di per sé sarebbe complicatissimo perché se giocato seriamente è giocato con un po' di vena competitiva di nuovo non per forza competitive da pro tour ma competitive solo che tipo fumetteria giochiamo vinciamo il premio è un formato molto complesso perché ha tutte le carte legali dall'alba di magic tranne alcune carte bannate e in base ad alcuni formati perché ci sono anche molti ai formati amatoriali commander 1v1 noi giochiamo centurion per farvi un esempio ma c'è sono anche altri hanno una banlist interna e cioè bisogna giocare attorno a 100 carte è impossibile ragazzi è impossibile è impossibile non si riesce a giocare attorno a tutte le possibili cose che potrebbe fare l'altro c'è una randomicità molto più alta da quel punto di vista perché di nuovo le carte sono singole nonostante i tutorial e tutto ok è un disastro da quel punto di vista poi i board diventano complessi in maniera incredibile il fatto che tu puoi tirare il comandante sempre appunto quindi di nuovo crea i disastri perché c'è i comandanti che fanno robe rotte è un pasticcio incredibile però però è un formato che appaga davvero tanto ed è molto divertente se lo giocate di nuovo appunto i vari livelli che abbiamo detto in multiplayer da meno competitivo più competitivo vi dà sempre sicuramente delle vibe positive perché ovviamente scegliendo il tavolo giusto se giocate il 1v1 che è un pochino più competitivo di nuovo quello che dicevo prima è comunque bello perché hai la complessità di un legacy ma non il prezzo di un legacy e soprattutto non la ridondanza di un legacy un mazzo di legacy comunque gioca 4 brainstorm 4 wasteland 4 foo e così via e 15 che palle cioè mi ha bastato to the death non ho giocato invece no sì ok anche in commander 1v1 centurion puoi morire o comunque di 1v1 vari puoi morire perché l'altro ti ho fatto mille vaste perché se le ripresa e quindi tu ci muori perché non giochi però 1 deve riuscire a trovare i modi per farlo perché non ne ha 4 ce ne ha una e la riesce a fare recursion e 2 se non fa così non può farlo ne ha una quella è e c'è ora e quindi questo ti dà una carta power level altissimo come quella del legacy appunto wasteland ma possiamo mettere anche per altri madre delle rune brainstorm forse will days eccetera ma ne ha 1 basta fine ok mai fregato quella volta con la fove basta non ne hai altre è finita lì adesso le altre spell se vai tap out me le fai risolvere ci sono anche altre carte che può fare però insomma c'è proprio la fove ma solo quella e questo è un formato che consiglio allora a tutti come più o meno come il pauper ma ma questo va ancora di più la regola 0 che dicevo all'inizio in base alla community che c'è da voi se c'è una community molto sviluppata ha senso e da lì potete muovervi se non c'è una community o comunque c'è una community ma non vi piace quello che fa allora no perché di nuovo se siete in una zona in cui tutti giocano competitive di H e voi non ci avete voglia allora non ha senso che montate commander e se invece c'è una scena di commander un po' casual un po' competitive e voi vi trovate il vostro tavolo il vostro giro allora ha senso detto questo ho di tutto quello di sui formati nel l'arri 2024 spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi quali formati vi piacciono di più quali di meno insomma i vostri feedback come sempre e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao e fate i bravi